Io sono in Do minore, perché sto facendo il secondo grado di Do minore e faccio un accordo che è pivot, cioè è analizzabile in Do minore ma anche dominante, sensibile, settimo grado di un'altra tonalità, in questo caso Sol bemole. Facciamo Sol bemole minore, vediamo come suona. Ho fatto la cadenza finale per lo stesso motivo, anche Sol bemole minore o Fa diesis minore, è una tonalità lontana da Do minore, quindi ha bisogno di una piccola codina per confermare la tonalità. Grazie a tutti.